Un detto molto famoso recita, prevenire è meglio che curare e in effetti è bene sapere in anticipo quali saranno le conseguenze delle nostre azioni, soprattutto se hanno a che fare con cibi potenzialmente letali che tuttavia mangiamo molto spesso. Una serie di alimenti tutto sommato quotidiani e facili da trovare in effetti sono estremamente pericolosi se ingeriti non adeguatamente o in quantità eccessive. Le ciliegie, pensate, sono tra i cibi più venenosi poiché all'interno del nocciolo è contenuto l'acido cianitrico, da cui si estrae il veleno per eccellenza, il cianuro per l'appunto. Questa sostanza si sprigiona nell'organismo se si mastica il nocciolo e questo si danneggia. Occhio anche alle mele, nonostante si dica che uno al giorno toglie il medico di torno. Proprio come le ciliegie, i semini di mela contengono l'estrato da cui si estrae il cianuro, dunque se ingeriti a manciate possono rivelarsi fatali. Continuiamo con le patate, cibo amato da grandi e piccini. Se mangiate ancora verdi, nell'organismo si disperde la solanina, una sostanza che provoca conati di vomito. Inoltre bisogna andare cauti con i funghi. Eliminati in partenza quelli velenosi per ovvie ragioni, quelli considerati commessibili contengono muffe e tossine che potrebbero provocare serie intossicazioni alimentari se non vengono cotti bene. Alla black list di cibi nocivi aggiungiamo anche i fagioli. Attenzione perché questi legumi contengono una pericolosa tossina chiamata fito-emo-agglutenina che oltre a vomito e diarrea può portare all'avvelenamento e ostacolare gravemente il trasporto dell'ossigeno nel sangue. Infine chiudiamo con le mandorle selvatiche che contengono la migdalina, una sostanza che produce, proprio al pari di ciliegie e semi di mela, acido cianidrico. Insomma, per restare in tema di detti e proverbi, uomo avvisato, mezzo salvato!